Il scrittore Paolo Mieli è stato ieri a Gorizia per un intervento storico e culturale sulle vicende che hanno caratterizzato l'area del confine orientale. L'incontro ha riempito il Teatro Verdi. Maurizio Mervar. Una fila lunghissima all'ingresso, la storia cittadina richiama sempre i goriziani e Paolo Mieli la affronta partendo dal concetto di complessità. La parabola di Gorizia, specialmente nel Novecento, è articolata in un continuo riemergere di nazionalismi, tensioni identitarie e razziali, lacerazioni che in settant'anni dalla Seconda Guerra Mondiale ancora non trovano una ricomposizione condivisa. E forse proprio per questo nel suo intervento Mieli non pronuncia mai la parola sloveno o slovenia ed espunge così dalla sua analisi questa componente socioculturale. Gorizia ha subito molte manipolazioni della storia. Innanzitutto la mancata accettazione da parte di noi italiani che per mille anni la natura di Gorizia è stata una natura germanica, austro-ungarica. Però dobbiamo tenere anche presente che Gorizia porta all'Italia un patrimonio più complesso. L'equiparazione delle tre violenze, la violenza fascista che era una violenza di torti alle minoranze etniche e linguistiche, la violenza nazista che era una violenza di sterminio e poi la violenza del dopoguerra, la violenza comunista. L'equiparazione di queste tre violenze come se ognuna bilanciasse le altre porta a una deformazione storica. Qui uno dei grandi misteri è che finirono uccisi da altri antifascisti, dagli antifascisti comunisti, degli antifascisti liberali, socialisti, azionisti, cattolici. È ancora una realtà poco conosciuta.